Tornano nel centro storico di Faenza i giardini a Natale, titolo di quest'anno giardini in volo. Oggi siamo venuti a seguire l'allestimento, il montaggio, la costruzione di questi giardini in volo. Rinascita, un titolo alquanto significativo. Il Comune di Cervia quest'anno a giardini di Natale ha voluto portare una rappresentazione che è una sfida per il futuro. Il 10 luglio di quest'anno la nostra cittadina è stata colpita da questo evento meteorico, una tromba d'aria che ha distrutto oltre 30 ettari di pineta storica, oltre a un migliaio di alberi nelle aree urbane. E quindi questo rappresenta per noi il momento della rinascita futura. Questo è un tronco che è sopravvissuto allo schianto, si è piegato e non si è rotto. E noi l'abbiamo voluto portare proprio come simbolo di quello che dovrebbe essere il futuro della nostra pineta. Le persone che visiteranno quest'anno i giardini di Natale avranno un momento per riflettere, oltre al bello che si vede, anche qualcosa di significativo per noi. Il vostro allestimento per questa edizione? Il nostro allestimento, siccome il titolo era Giardini in volo, abbiamo pensato a qualche cosa che fluttuasse, per cui l'abbiamo chiamato esposti al vento. Abbiamo quelle foglie appese che simboleggiano un po' il movimento, che tutti noi abbiamo a che fare in qualche modo con il vento, sia come nel nostro lavoro, ma il vento poi simboleggia un po' anche il cambiamento in tutte le cose. Per cui ci è piaciuta questa idea che hanno avuto del volo, del giardino che vola, e ci ha ispirato questa cosa che stiamo allestendo con i nostri giardinieri. Che cosa avete progettato? Vedo qualcosa di sospeso e qualcosa che si aggrapperà alle colonne. Certo. Allora, in sospeso abbiamo un tappeto verde che vola e in più dei pacchi con all'interno delle piante. Quindi il regalo di Natale più bello quali sono? Le piante che escono dai pacchi. Per quanto riguarda invece le colonne, abbiamo usato del tappeto sintetico e dell'edera che l'avvolgono e danno una certa eleganza alla composizione. In più verranno aggiunti dei fiori bianchi che danno vita e colore al tutto. Che cosa proponete per questa edizione? Quest'anno proponiamo un giardino che, diciamo così, è una visione. È una visione di intreccio di sguardi, è anche il titolo del giardino, dove praticamente abbiamo inserito delle maschere in maniera tale che il passante, alzando lo sguardo, si faccia coinvolgere e si senta osservato nel momento proprio del transito sotto i loggiati faentini. Abbiamo utilizzato delle erbe nostrane, tutto in maniera molto semplice, quindi i colori sono quelli del nostro autunno, per cercare qualcosa di sobrio, di leggero, ma anche di unico e di innovativo, diciamo così. Che cosa proponete quest'anno? Quest'anno proporiamo un giardino tattico, tattile, di materia naturale, in modo che i bambini creino con le loro famiglie un oggetto che possono portare e quindi rivedere, ritrovare nella loro piazza. La natura in questi anni è stata la base di tutti i giardini ai quali abbiamo partecipato e quindi c'è il gusto e la gioia da parte di ogni bambino di collaborare. Il fatto che si faccia partecipare la famiglia è il nostro punto di forza e di gioia perché i bambini vanno a casa con il desiderio di lavorare e creare qualcosa e ognuno ha portato una piastrella diversa, ma diversa con uno stile, un'attenzione unica. E queste piastrelle portano soprattutto la gioia di condividere un percorso di crescita che speriamo duri nel tempo. La vostra opera è ancora in itinere. Cosa avete progettato? Ho finalmente trovato una collaboratrice, una collega con cui poter condividere questa bellissima esperienza del verde e della progettazione che vi illustrerà il nostro progetto. Grazie Paola. La nostra idea per i giardini di Natale 2019 di quest'anno è stata ispirata dal voltone che vedrete alle nostre spalle e due pilastri. Trovandoci a Faenza abbiamo ritenuto che questa idea e questa installazione fosse fondamentale a essere realizzata in ceramica. Abbiamo fatto realizzare dal maestro Piero Garavini di Faenza, maestro delle ceramiche, due elevori, quindi due fiori, che verranno installati accanto ai pilastri per rendere e sottolineare ancora di più l'idea del tendere verso l'alto, quindi una tensione verso l'infinito, verso l'ascesa verso l'alto. Grazie. 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 Grazie.